Sulla strada di ritorno a Roma mi vennero in mente le amate parole di Dante quando nel paradiso si rivolge alla Madonna. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, tutto mi fu chiaro e feci la mia pietà. Alla quale opera non pensi mai, scultore, di poter aggiungere al marmo più grazia e finezza di quanto fece Michelangelo a soli 24 anni, perché in questa si scorge tutto il valore e il potere dell'arte. ci si è meraviglia che una mano umana abbia potuto fare in così poco tempo cosa simbirabile e divina.